Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e benvenuti in questa nuova video recensione per la Ludo Narra con 2021. Per uno degli ultimi titoli, il penultimo in particolare, andiamo a parlare di Genesis Noir. Genesis Noir è sviluppato da Feral Catden e distribuito da Fellow Traveler stessa organizzatrice del Ludo Narra con. In particolare in Feral Catden praticamente lo studio è One Man Band, cioè il designer è quello che ha fatto praticamente tutto il gioco. E tra l'altro cosa curiosa che ho scoperto andando a cercare chi fosse quest'uomo qua è lo stesso uomo che ha pensato, concepito il design dei puntini di Google. Avete presente i puntini, quelli che si animano, si girano anche sul cellulare, su Android, quando usi l'assistente vocale o quando sta facendo il caricamento. Quelle animazioni le aveva pensate lui. C'è scritto almeno sul suo istituto in internet. Genesis Noir mi ha preso subito, mi ha coinvolto per quello che è lo stile artistico e per il concetto che c'è alla base. Allora il setting è questo. Siamo appunto in un noir. Genesis perché siamo all'inizio dell'universo. Cosa succede? Noi, il protagonista, stiamo per andare a trovare questa avvenente cantante di questo nightclub e quando stiamo arrivando là sentiamo un colpo di pistola, un colpo di arma da fuoco e scopriamo che Golden Boy, nonché partner diciamo di questa donna che si chiama Miss Mass, la signorina Massa, ha sparato appunto... Golden Boy ha sparato Miss Massa. E questo colpo di arma da fuoco è quello che è il Big Bang, è quello che dà origine all'universo. Noi siamo praticamente in una sorta di realtà parallela in cui questo momento qua scatena il Big Bang nell'universo dell'essere umano, insomma quello in cui ci troviamo io che sto parlando e voi che mi state vedendo e per il protagonista si ferma tutto e noi ci troviamo nei panni del protagonista ad andare a osservare tutti i vari punti della scena del crimine, tra virgolette, non tanto per scoprire chi è stato o chi è la vittima, cioè noi giocatori sì ma il protagonista no, ma più che altro per andare a visitare e vedere che cosa ha dato origine a tutto questo e quindi come potere anche impedire che succeda perché il protagonista si intuisce e molto innamorato di questa Miss Massa con cui sembra che ci sia stato qualcosa, adesso non vado a spoilerare, comunque c'è una sorta di tresca si capisce dall'inizio. Cosa succede quindi a questo punto dal punto di vista del gameplay e della narrazione? Allora andiamo a cliccare su dei vari punti all'interno di questa scena del crimine che a loro volta attivano delle sorte di livelli con delle meccaniche tutte un po' particolari. In ognuna di esse andremo a vedere una parte di evoluzione dell'universo, nel senso che avremo in ordine cronologico la parte di formazione delle stelle in cui ci sono anche dei flavor text in cui parla di come le nebulose insomma siano la fabbrica delle stelle perché tutto l'idrogeno e l'elio si compattano e quindi le reazioni nucleari, le stelle, la formazione di tutti gli atomi che sono conosciuti e quindi i pianeti eccetera eccetera. Su dei livelli tutti molto particolari per cui abbiamo tipo da lanciare dei semi per creare delle stelle, creeremo dei buchi neri, insomma le galassie, poi andremo a vedere l'essere umano quando nasce la vita sulla terra con il brodo primordiale, i vari step della vita dell'essere umano pian pianino per poi arrivare a, avendo compreso tutto questo, tornare alla situazione della scena del crimine. La narrazione non è una cosa particolarmente importante, nel senso che quello che vediamo non è una vera e propria storia, sono tanti sprazi di situazioni diverse del mondo, della storia passata e presente e futura di quest'uomo con Miss Mass e Golden Boy. Sono tanti flash davvero di situazioni in cui andiamo a muoverci, a esplorarli, a viverli all'interno, ma è come se vedessimo nei particolari un grande dipinto e appunto andiamo pian pianino a vedere tutte queste piccole cose che ci sono in questa grande tela. Per cui la narrazione non è una vera e propria narrazione standard. Uniamo un po' i puntini di quello che incontriamo e ci rendiamo conto di una trama di sottofondo. E in tutto questo il gioco come gameplay non si discosta molto da un walking simulator o più propriamente e meno volgarmente detto environmental based narrative. Se ne discosta perché ci sono, innanzitutto non è in prima persona come avrete visto dalle immagini che stanno scorrendo, ma ci sono dei piccoli puzzle man mano che si va nei vari livelli. I puzzle sono comunque molto molto filler, sono raramente difficili e sono davvero per tenere impegnati un po' tra un dettaglio che viene mostrato e quello successivo. Per cui non è particolarmente avvincente questa parte qua, nonostante quasi tutti i puzzle siano molto carini e ben strutturati. Un'altra cosa che devo aggiungere, questa purtroppo molto molto grave, è che durante il gameplay ho avuto tre bug bloccanti, bug critici, perché in tre situazioni mi sono trovato in una parte del flusso di gioco completamente rotta, bloccata. Cioè che nulla di quello che era presente a schermo era interagibile, o perché non si triggerava una cazzina, o perché non aveva preso correttamente un input precedente. Questo è successo tre volte, appunto come dicevo, in due punti diversi e nel secondo è una cosa di cui si lamenta praticamente tutto l'internet che ha giocato Genesis Noir. In un certo punto c'è un albero, una parte con un albero sulla collina e sembra che se non lo fai nel preciso esatto momento in cui il gioco se lo aspetta e con le precise condizioni in cui il gioco se lo aspetta, si blocca il gioco e non riesce più a continuare. E l'unica cosa che puoi fare è alt-f4 o comunque termine forzato del processo per poter uscire, perché è proprio bloccato completamente. Non che sia frizzato o crashato, ma proprio non puoi interagire con nulla, né aprire il menu, né niente, per cui devi proprio uscire forzatamente al gioco e questa è una cosa molto grave per un gioco uscito appunto in accesso anticipato, in beta o in alfa. Alla fine del gioco, e qua esprimo con voi insomma il mio parere travagliato su questo videogioco, sono rimasto un po' perplesso, nel senso che a livello di design e di grafica, e per le idee che ci sono dietro, è davvero un titolone, nel senso che è molto innovativo, ci sono degli spunti che non riesco neanche a immaginarmi come abbia potuto mettere sulla piazza questo sviluppatore, e da quel punto di vista davvero tanto di cappello, però dal punto di vista di godibilità del gioco, è abbastanza scarso, nel senso che non ti prende mai, non ti cattura mai, né con la narrazione né con il gameplay, per cui è abbastanza un'interazione passiva, e per un videogioco è una cosa strana, perché non stai guardando una serie televisiva o un film, richiede una tua interazione, però è solo per sbloccare il pezzettino dopo, che in realtà non è che ti chiarisce molto della trama, perché non è una narrazione nel vero senso della parola come dicevo precedentemente, per cui sono davvero molto perplesso, sono più dal punto di vista del negativo, perché avrebbero potuto fare davvero uno dei migliori videogiochi mai concepiti dall'essere umano, con questo materiale qua e con questa grafica qua, e con queste idee qua, però la ciambella è uscita senza buco, secondo me. Mi dispiace, ma... così. Poi io vi invito assolutamente a scrivermi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato, perché so che molta gente lo ha molto apprezzato come gioco, e quindi se ne può intavolare benissimo la discussione qua sotto nei commenti o comunque sul canale Discord relativo a questo canale YouTube. Detto questo vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto per restare aggiornati sulle prossime recensioni e sui videogameplay che pubblico regolarmente. Grazie a tutti per la visione, vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!